Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Si è appena concluso il nono turno del campionato del mondo tra il russo-nepomnici ed il cinese Ding. Questi due giocatori stanno veramente giocando questo match alla morte e anche oggi è stata battaglia vera. Ma prima di andare avanti lasciatemi salutare e ringraziare Nicola, nuovo abbonato alle mie video lezioni, che trovate qui sul canale a soli 2,99€ al mese. Naturalmente io tutti i mesi aggiungo sempre nuove lezioni. Ma passiamo subito alla partita, anche perché non è che sia cortissima. Ieri Ding di bianco ha sfiorato la vittoria ma ha permesso a Nepomnici alla fine di pattare. E allora il russo rimane in vantaggio ed oggi col bianco farà di tutto, ma veramente di tutto, per dare il colpo da K.O. E allora non dimenticate di like e partiamo. Allora Nepomnici di nuovo apre con e4. E Ding, che aveva avuto paura di rientrare nella Ruy Lopez, stavolta si fa forza e gioca di nuovo e5. Cavallo in f3, cavallo in c6, alfero in b5. Siamo nella Ruy Lopez, ma Ding cambia schema difensivo. Non più a 6 e poi cavallo in f6, che è la difesa morfi. Arriva direttamente cavallo in f6, la difesa berlinese. Ora è interessantissimo notare come Nepo non entrerà nella linea principale che sarebbe a Rocco Corto, che porta a delle lunghe dispute teoriche e molto probabilmente a dei finali che sono posizioni forze e forze più congeniali all'analiticità di Ding che non alla sua fantasia. E allora cosa fa? Non gioca a Rocco Corto, gioca a d3, protegge il pedone. Alfiere in c5, naturalmente sulla sua casa più offensiva. Arriva c3, a Rocco Corto per il nero, a Rocco Corto anche per il bianco. Adesso d6 è la mossa più giocata, invece Ding gioca subito d5. Ora attenzione, perché sembra un attacco Marshall, ma non lo è. Ora al contrario dell'attacco Marshall, stavolta il nero non sacrifica nessun pedone. Come mai? Perché ora se il bianco cattura, per esempio, e per d5, la donna ricattura e protegge tutto. E in questa posizione di d5, anche se si elimina prima il cavallo, b per c6, e per d5, qui basta ricatturare di donna. Il pedone è salvo e seppur ci sia una brutta struttura pedonale, ridendo e scherzando, il nero è rimasto con la coppia degli alfieri. E allora dopo d5, la continuazione principale è quella giocata da nepo, cioè proteggere il pedone sviluppando il cavallo in b2. d per e4, d per e4, e ora donna in e7 è la mossa più giocata, invece Ding gioca a 5. Ora, guardate che strano, cosa vuol fare il nero? Vorrebbe spingere il bianco a cambiare l'alfiere sul cavallo, a vincere un pedone, ma poi a ritrovarsi in una posizione molto difficile da portare avanti per vincere la partita. Tant'è che nepo non lo farà. Guardiamola velocemente. Se alfiere per cavallo, il pedone che ricattura è cavallo per e5, torre in e8 e il nero ha tolto molto, moltissimo alla forza di attacco del bianco. Oltretutto, guardate che pressione sulle case centrali. E allora dopo a5 nepo gioca a4. Stavolta veramente si protegge il pedone con donna in e7. Donna in c2, cavallo in b8. Cosa fa questa cavallo in b8? Noi sappiamo, sia nell'italiana che nella spagnola, il cavallo in c6, seppur questa casa c6 all'inizio sia la casa migliore per il cavallo, vedete che poi non ci sono sbocchi offensivi. Quindi il cavallo va sicuramente riposizionato. Portandolo subito in b8 si permette la spinta c6. E allora arriva torre in e1. Ah, scusate, perché è interessantissima questa preparazione di Ding. Con questa cavallo in b8 e con questo schema della immediata d5, lui sta seguendo due vittorie recentissime giocate lo scorso anno da Nakamura di nero. Una contro Wesley So e l'altra contro Bortnik, che se non lo conoscete è uno dei giocatori blitz più forti del mondo. Allora, contro Naka, entrambi gli avevano giocato alfieri in e2. Questa torre in e1 giocata da Nepo, sinceramente, mi sembra migliore. Allora, torre in d8, arriva h3 a controllare questa casa g4, stessa idea del cinese che gioca h6, trasporto del cavallo in f1 e arriva c6. Qui, questa casa f1 non c'è più, ma rimane alfieri in c4, che tutto è buonissima e che si rimane sulla diagonale offensiva. E qui, cavallo in a6. Dopo 14 mosse, solo adesso, Nepo inizia a pensare un po' più a lungo, ma entrambi hanno mosso molto velocemente, entrambi hanno circa 1 ora e 45 minuti sull'orologio, quindi il tempo per ora c'è e come. E allora Nepo gioca a cavallo in g3, donna in c7, mossa già giocata, per il computer, pensate, il nero ha totalmente equalizzato. A cosa serve questa donna in c7? Che oltretutto, guardate, sembra anche togliere la casa c7 al cavallo. E invece è una bella finezza, perché con tutto protetto e spostandosi, si libera la manovra dell'alfiere, sia alfiere in f8 che anche alfiere in e7, se dovesse servire, e guardate, quando l'alfiere si muove, si può anche, ora con la donna qui che protegge, si può tranquillamente fare il passettino b6, e se l'alfiere si sposta, si è liberata la casa avanzata c5 per il cavallo. Allora, alfiere in a2, forse per paura della spinta b5, che puntualmente arriva. arriva b5, mi sono scordato di scrivere quando la partita diventava originale, se non mi sbaglio, quest'alfiere in a2 è la mossa che rende la partita originale. E allora arriva b5, ora al bianco, come vedete, non è che gli convenga molto cambiare in b5, certo, non succede niente di grave, però a cosa serve? Quindi anche Nepo crede che non serva a niente, e allora donna in e2, raddoppia l'attacco su b5, lascia però il pedone a4 sospeso. Certo, la cattura sciupa un po' al nero questa struttura pedonale, andrebbe forse giocata subito però questa cattura, perché è vero che si sciupa la struttura, ma forse è anche vero che col tempo un danno alla struttura sul lato di donna anche il nero potrà farlo al bianco. Detto questo, Ding gioca a torre in b8, cavallo in h4, e la situazione in una mossa cambia completamente. Guardate cosa minaccia Nepo, questo è il classico attacco della partita italiana, perché, ricordiamoci bene, è vero che questa partita è iniziata come una spagnola, quindi come la Rui Lopez, ma quando il bianco gioca a d3, e alla fine si rientra in posizioni veramente tipiche della partita italiana. Allora, a cosa serve questo cavallo in h4? Entrambi i cavalli puntano e si difendono a vicenda per il salto in f5, la donna arriverà in f3 con minacce terribili, e anche il pedone inchiodato, di attacco su h6. Brutto? Brutta posizione? Io qui l'avevo vista veramente bruttina, e forse si può giocare subito b4, addirittura, e invece Ding si spaventa, e forse giustamente gioca alfiere in f8. Donna in f3, b per a4, e adesso alfiere per pedone. Vedete che, come dicevamo, l'attacco su h6 è fortissimo, adesso se il nero cattura è spacciato, tant'è che Ding non lo farà. Come mai è spacciato? Perché dopo g per h6, la donna ricattura, e ricattura con tempo, perché l'alfiere minaccia con la donna, f7 con scacco, la donna si può anche spostare con scacco, perché questo è inchiodato, uno dei due cavalli, probabilmente quello sulla colonna h, si porta, si porterà in f5, e attaccherà h6 con scacco insieme alla donna. Posizione disastrosa. E allora qui Ding deve trovare una bella idea, e la troverà, cavallo in c5. Mossa forte, perché fondamentalmente, contrattacca, allora intanto riporta il cavallo, verso il centro, e questo cavallo controlla, delle case importantissime, in particolar modo, d3, qui bisogna stare attenti, nel fare l'attacco, perché torre in d3, va a colpire direttamente la donna. E allora cavallo in g6, guardate, sembra in presa, ma non lo è, è perché il pedone è inchiodato, cosa minaccia di fare? Probabilmente, una delle idee, è togliere di mezzo questo alfiere, e poi concentrare gli attacchi, sul cavallo. E allora in questa posizione, torre in d3, rimane secondo me, la mossa migliore, Maddinga ha un'altra idea, eccezionale, giocherà torre per pedone, come mai, non solo ha vinto, il secondo pedone, oppure, sì, un pedone però l'ha perso qui, non solo ha vinto il pedone, ma cosa minaccia? Minaccia torre per alfiere, e quindi qui, il pedone non è più inchiodato, minaccia di prendersi, due pezzi per la torre, e allora costringe, nepo a cambiare alfiere, il cavallo sull'alfiere, la torre ricattura, e qui, ridendo e scherzando, il nero ha ridotto di parecchio, la pressione sull'arrocco. Allora, cosa bisognerebbe fare in questa posizione? Queste sono quelle posizioni, un po' da computer, un po' da computer umano, anche alla Magnus Carse, qui purtroppo, purtroppo bisogna giocare con estrema finezza, alfiere in C4, è probabilmente la mossa migliore, come mai? Non è che faccia niente di che, ma mantiene, forse aumenta leggermente, la pressione sulla posizione del nero. Invece nepo gioca la mossa più umana, alfiere in G5, secondo attacco sul cavallo, ma il cavallo si sposta in H7, alfiere in C1, attacca la torre. Ora, dove piazzare questa benedetta torre? Questo è un po' un dilemma, torre in C2, è l'idea migliore, perché lascia la torre attiva. Come mai torre in C2 è buona? Non si può fregarlo, giocando alfiere in B1, non si può fare, perché c'è un tatticismo simpaticissimo, cioè simpaticissimo per chi lo gioca. Torre per alfiere, la torre ricattura, vedete, la ricentralizzazione del cavallo, permette il doppio, e il nero si riprende tranquillamente da qualità. Invece cosa fa il buon Ding? La porta indietro in B5, che comunque il computer non piace, ma è una mossa normalissima. Allora, alfiere in A3, attacca il cavallo, è vero che è difeso, ma attenzione, perché il difensore potrà venire attaccato in vari modi, il cavallo non si può spostare, perché è inchiodato sulla torre. Allora, intanto bisogna togliere di mezzo la torre. Torre in E8. Forse, forse, stava bene anche in D8. Alfieri in C4, attacca il difensore del cavallo. E allora Ding, sembra spacciato. Eppure, un'altra volta, troverà una grande idea. E noi siamo arrivati, al nostro quizone. Cosa giochereste al posto del nero? Mettete pure in pausa, è da voi la parola. Ritorniamo a noi. Il buon Ding giocherà alfiere in E6. E come mai? Non si può catturare questa torre? Certo, sarebbe forse l'idea migliore. Ma Nepo si spaventa e cambia gli alfieri. Come mai non ha preso la qualità? Guardate che cosa sarebbe successo. Dopo alfiere per torre e la ripresa di pedone, qui praticamente, dopo torre in B8, si avanzano i pedoni, il nero fa due pedoni passati, connessi, supportati, praticamente, da tutti i pezzi, tranne che dal cavallo. Ed è una posizione a doppio taglio pericolosissima per entrambi i colori. E allora Nepo non ha voluto rischiare. Gioca alfiere per alfiere. E allora il cavallo ricattura in E6, cavallo in F5. C5, oltretutto, chiude la strada a questo alfiere. E allora donna in E2 attacca la torre, torre in B3 attacca C3, e quindi c'è addirittura il contrattacco di Ding sul lato di donna. Donna in C4 è l'unica mossa buona perché protegge il pedone e minaccia anche quello in A4. Allora, donna in C6, questo alfiere ci sta malissimo così bloccato. Allora, giustamente Nepo gioca alfiere in C1 per dare vita a questo alfiere. Oltretutto, il pedone in A4 casca sicuramente. Allora, visto che quello casca, è bene rimettere in gioco il cavallo. Cavallo in F6, attenzione, attenzione a come si cattura in A4. Perché torre per A4 sarebbe sbagliata. Guardate Bellino, torre per pedone che attacca la donna e si ripiglia il pedone perché qui bisogna fare donna per torre e però si lascia la torre sospesa donna per torre e il nero sta meglio del bianco. E allora è costretto a catturare di donna Nepo donna per pedone in A4 aspettava altro il cinese donna per donna la torre ricattura torre per pedone in C3 torre per pedone in C3 forse è una piccola incertezza si poteva manovrare un po' meglio niente di che ma ora questa torre si deve spostare in B3 alfiere per pedone in E5 torre in B4 ora qui se il bianco fa torre per torre questi due pedoni vincano la partita ma intanto vedete che Dinges si vuole rifare anche lui sul pedone centrale e allora torre per A5 torre per pedone in E4 torre per torre il cavallo ricattura torre in A4 cavallo sotto attacco in questa posizione Dinge fa una scelta interessantissima ma più che altro più oltre che interessante fa una scelta da finalista vero come mai ora qui cosa ci sarebbe venuto in mente a noi spostare subito il cavallo in D2 guardate che succede e si può giocare cavallo in D2 giocabilissima può arrivare alfiere in C3 che gli ridà fastidio cavallo in B1 alfiere in B2 due pezzi che puntano su G7 protetto soltanto dal cavallo può tranquillamente arrivare anche torre in G4 ma più che altro siamo sicuri che questo cavallo non verrà intrappolato e questa è una è un grosso punto di domanda e allora guardate Dinge che cosa si inventa sacrifica un pedone cavallo in D4 scopre l'attacco della torre sull'alfiere e allora Nepo vincerà un pedone ma è costretto a dare via l'alfiere alfiere per cavallo il pedone ricattura torre per pedone in D4 tre pedoni contro due arriva G6 che scaccia il cavallo avanzato e anche Dinge ha giocato la quarantesima mossa quindi ci sarà tutto il tempo per pensare a come difendersi in questo finale che naturalmente il vantaggio di materiale seppur questa posizione sia difendibile ce l'ha il bianco allora cavallo sotto attacco si porta in E3 re in G7 migliora il re torre in B4 e qui un'altra dingata cavallo in G3 e guardate Bellino qui si sciupa la struttura e poi ci si può stringere la mano e allora torre in B7 perché attenzione nel finale una delle idee più importanti è capire qual è il punto più debole in questo caso naturalmente F7 e allora cavallo in F5 e questa un'altra mossa da finalista puro come mai io qui ho recatturato cavallo per cavallo tutta la vita ma guardate che succede dopo cavallo per cavallo con scacco il pedone G che ricattura sembra impossibile ma il bianco non vince mai perché anche con torre in B6 arriva torre in E1 con scacco re in H2 torre in E2 re in G3 a proteggere il pedone torre in E4 qui non si fanno progressi in nessun modo ora ci vorrebbero 20 mosse per farvelo vedere ma non ci sarà modo di fare progressi nemmeno a un certo punto addirittura il nero potrà anche giocare F6 qui non si muoverà più un filo incredibile ma vero ritorniamo a noi e allora visto che vuol vincere il buon Nepo il cavallo lo sposta e gioca cavallo in G4 ora un'altra mossa questa veramente particolare io avrei giocato torre in E1 torre in E2 e invece Nepo va al cambio delle torri che è una cosa che mi avrebbe fatto una paura incredibile rimanere col cavallo col pedone in meno e invece questa mossa al computer non gli dispiace affatto tant'è che Nepo non cambia le torri e gioca torre in B5 e allora lo scacco da E1 arriva re in H2 torre in E2 blocca il cavallo torre in B7 cavallo in D6 attenzione attacca la torre protegge il pedone che era già protetto c'è anche la minaccia cavallo in E4 allora la torre sotto attacco si sposta ma rimane sulla settima traversa cavallo in E4 sembra bellina ma non fa granché perché si gioca F4 e allora re in F8 schioda il pedone re in G3 e arriva F5 re in F3 attacca la torre quindi fa una minaccia più grossa del cavallo allora torre in E7 guardate brutto adesso se torre per torre prima di riprendere si cattura il cavallo con scacco poi è sicuramente patta e poi naturalmente ci si riprende la torre allora torre in A8 più scacco sì torre in A8 scacco torre in E8 stavolta il cambio delle torri arriva con tempo torre per torre con scacco il re ricattura bisogna salvare il cavallo cavallo in E5 e per forza arriva G5 e qui H4 questo momento interessantissimo per il principiante non di certo per Ding qui c'è una sola cosa da fare ed è catturare il pedone come mai? perché se si gioca G4 con scacco il re avanza tranquillamente ci sarà l'invasione micidiale re in G5 con il re che poi supporta il pedone passato e quindi il nero può anche abbandonare allora dopo H4 Ding cattura G per H4 re in F4 ora qui si può tranquillamente giocare re in E7 H3 è comunque buonissima qui costringe perché qui alla prossima non si cattura ma si va a donna qui quindi costringe Nepo a catturare in H3 dividendogli i pedoni arriva re in E7 se H4 re in F6 e allora cavallo in C6 con scacco è una prova qui purtroppo la posizione al gioco corretto è patta e allora re in F6 cavallo in D4 cosa ha provato a fare il buon Nepo? ha provato a mettere il nero in Zuzwang ma purtroppo questa idea non può riuscire in questa posizione perché intanto c'è re in G6 re in F6 e quindi la casa per spostarsi c'è ma come è fatto in partita da Ding l'altra idea è quella di attivare il cavallo allora cavallo in C4 F3 cavallo in F2 H4 cavallo in D3 con scacco re in G3 e arriva re in G6 non si fanno progressi allora cavallo in E6 è secondo me l'ultimo trucco del russo ora se arrivasse cavallo in F4 con scacco il cambio dei cavalli è 2 contro 1 e bianco vince semplicemente questo finale allora bisogna togliersi dallo scacco re in F6 cavallo in F4 di nuovo cambiare i cavalli vuol dire perdere la partita e allora l'equino si porta in B4 re in F2 re in E5 guardate il re sempre più attivo re in E3 a proteggere il pedone cavallo in C2 con scacco allora re in D2 questa veramente è una posizione interessantissima un po' per tutti perché qui Ding potrebbe e ne aveva il tempo pattare di forza come mai qui si può catturare anche se questo va a donna come mai si può catturare e Ding non lo farà perché dopo re per cavallo e re per cavallo re per pedone ed il pedone scappa H5 F4 ora attenzione giocare re in D2 non serve a niente perché guardate re in G2 controlla la casa di promozione è vero che promuove per primo il bianco ma promuove senza scacco e anche questo arriva a promuovere quindi è patta l'unica cosa che fa paura è se il bianco avanza subito in H6 re in G2 H7 F3 va a donna F2 ma questa è una posizione teoricamente patta e invece ritornando a noi torna indietro col cavallo Ding che tanto aveva visto che da questa parte si passa male cavallo in D4 minaccia il pedone cavallo in D3 con scacco re in F6 re in E3 e allora cavallo in C2 con scacco re in F4 cavallo in D4 re in G3 cavallo in E2 con scacco re in F2 e allora di nuovo cavallo in D4 cavallo in F4 re in E5 situazione molto simile a quella che avevamo visto prima ma col cavallo nero in B4 e allora cavallo in E2 cavallo in E6 re in G3 re in F6 qui secondo me ci si poteva stringere la mano invece ne può eh perché qui ci si gioca il mondiale continua re in G2 re in G7 ma qui andava bene anche in G6 re in F2 e qui addirittura una mossa che va calcolata bene F4 riduce ancora lo spazio di manovra del bianco allora re in G1 re in G6 re in G2 re in H6 cavallo in C1 re in H5 attacca il pedone re in H3 lo protegge e arriva cavallo in D4 e allora cavallo in D3 cavallo per pedone anche in epoca attura ma lo fa con scacco ma poi i due si accordano giustamente per la patta perché cosa sarebbe successo sarebbe successo che basta che il re si sposta in H6 il pedone sotto attacco e qui al nero gli basta cambiare il cavallo sul pedone perché sapete che con re e cavallo non si vince e allora dopo H5 arriva re in G5 attacco doppio re in G3 e qui che si fa cavallo in E5 e praticamente se questo si sposta casca il pedone ma in qualche qualche mossa bisogna pur farla l'idea migliore è giocare cavallo in H3 con scacco re per pedone e con un cavallo a testa non si vince più posizione di patta teorica quindi Nepo non è riuscito seppur dopo averci provato a lungo a dare il colpo del probabile K.O. a Ding che con nervi di acciaio ma anche una tecnica perfetta ha prima reso inoffensivo l'attacco di Nepo sul re quello faceva vi assicuro paura e poi ha difeso senza problemi il finale e allora la battaglia continua domani sarà giorno di riposo e mi sa che mi riposerò anch'io ma naturalmente non dimenticate di iscrivervi al canale per guardare insieme tutti i migliori eventi scacchistici e io come al solito vi ringrazio tantissimo per l'ascolto ci vediamo domenica a presto grazie a tutti i migliori per l'ascolto per l'ascolto per l'ascolto per l'ascolto per l'ascolto grazie a tutti i migliori per l'ascolto